Il segretario nazionale del COISP Nicolò Di Maria a Lentini per un giro incontrare i componenti della segreteria, i soci, i lavoratori della Polizia di Stato. Un impegno importante? Sì, il mio incontro odierno non è altro che un'attività di supporto a tutte le strutture territoriali che la segreteria nazionale ha tra le proprie prerogative giornaliere. Oggi siamo a Lentini, domani siamo in altre province proprio perché vogliamo far sentire la presenza del COISP, tra l'altro sindacato leggermente rappresentativo su base nazionale, a tutte le strutture locali e supportandole sotto tutti gli aspetti che rientrano nelle nostre prerogative.